Buongiorno, oggi preparo un tortino di paratate con scarola, formaggio a pezzetti, due albume, sale, pane grattugiato e olio. Allora inizio a mettere il sale nella scarola a crudo, la scarola è a crudo, metto dell'olio, e mescolo, così si appassisce un poco. Dopo aver mescolato bene la scarola, io ho bollito delle patate, mezzo chilo di patate e gli ho schiacciati. Adesso li vado a mettere dentro la scarola. Dopo aver messo la parola, continuiamo. a mescolare. Così si amalgamano tutti gli ingredienti. ora metto gli albumi. dopo averlo amalgamato tutto, l'impasto, mi vado a preparare la teglia, metto dell'olio, il panno è grattugiato e vi adagio sopra l'impasto. metto l'olio sopra e lo vado a stendere. e ricopri il panno è grattugiato. ora in forno caldo, a 200, fino alla cottura. dopo mezz'ora. eccola pronta. eccola pronta.